Adesso basta! Tu non ti chiamerai più principessa dei diamanti d'ora in poi e te ne andrai dal mio collegio Il mio papà è morto, non c'è più Priscilla, hai sentito? Dicono che il mio papà è morto Non è possibile, non posso crederci Non posso crederci Molly, James, interrompete subito questa stupida festa di compleanno che sono stata costretta a dare per quella ragazzina Rimettete tutto in ordine Oh sì, certo, come vuole Miss Minji Ma... Ci avevamo messo tanto a preparare Che peccato, era una festa così bella Basta, fate un po' di silenzio Tornate subito nelle vostre camere, mi avete capito? Gertrude, ascoltami No, 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 no Io non voglio che mamma Sara veda via dal collegio Non piangere più Non piangere più Sara Cerca di calmarti Non so cosa possiamo fare per aiutarla Ma qualcosa faremo Non ho fatto neppure in tempo a darle il mio regalo Beh, credo che ormai sia troppo tardi per darlo a Sara Penso che dovrete tenerli solo per poco Perché? Ah, perché tra poco sarà il complanno di Lavin E immagino che abbiate già provveduto ad informare la ragazza di quanto è accaduto a suo padre L'ho fatto personalmente E se non fosse scappata subito nella sua stanza le assicuro che avrei potuto essere ancora più incisiva nel dirglielo Ah, vedo che mi posso fidare di lei Le ringrazio molto, Miss Minci Per me ora sarà più facile sbrigare le prossime procedure Di cosa sta parlando, avvocato? Vede, io sono illegale del defunto signor Morris e dovrò fare il mio dovere fino in fondo Disporrò il sequestro di tutte quante le proprietà che erano del signor Morris Che adesso appartengono a sua figlia Sara Oh, ah sì Come sa ho fatto degli investimenti colossali sulla miniera di Mr. Morris e ho subito notevoli perdite In breve io posso avanzare dei diritti legali e per questo disporre dei beni del signor Morris Cioè di quello che ora appartiene a sua figlia Sara Ma, dice davvero? Già, ora procederò al sequestro di tutti i beni di Sara Sara, apri la porta Avanti, fammi entrare Apri Sara Accidenti, mi sta facendo perdere un sacco di tempo Non ce l'ha un'altra chiave? Eh, ma certo Oh, pensavo di trovarti in un mare di lacrime Ma a quanto vedo non è così Mi hanno riferito che sei già stata informata da Miss Minci della disgrazia che ti ha così duramente colpito Mi spiace ma è così A questo punto però ci sono delle altre cose che è necessario che tu sappia Innanzitutto dal momento che ho prestato parecchio danaro tuo padre quando era ancora in vita ho predisposto con Miss Minci il sequestro dei tuoi beni Oh, ma io... Guardi un po' qua Miss Minci, non le sembra una sciocchezza comprare dei libri così costosi a una bambina? È incredibile quanto sia stato stupidamente generoso suo padre Ha persino una sedia a dondolo E la scrivania è un pezzo d'antiquariato E le sedie, e il tavolo, e anche il sofà E quel tappeto Ah no, mister Barro Quel quadro appartiene al collegio da molto tempo Già, già Immagino che si tratti di un dipinto molto prezioso Sicuramente quell'opera parterrà ad un artista molto famoso Non si preoccupi, non ho intenzione di appropriarmi di cose che appartengano al suo collegio Un pappagallo che parla bene, potrei ricavare qualcosa anche da questo Oh no, la prego Buona parte il pappagallo che mi ha regalato mio padre e io ho voluto portarmelo dall'India fin qui Sara! 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 Certo che un pappagallo che sa ripetere soltanto una parola Non è che valga poi molti soldi però Non le permetterò mai di toccare buona parte Sara! Però questi vestiti così eleganti devono certo valere molto Quel guardaroba non è adatto a una bambina E neppure questo tavolo E neppure questo letto Scusa papà Sara! Sara! Bene, allora Miss Minji Domani manderò un uomo a ritirare tutti questi mobili E mi sembra inutile pregarla di non toccare niente sino ad allora Oh, ma mister Barro, sentala, prego Naturalmente tutti i tappeti e le tende sono anch'essi compresi nelle cose da sequestrare Aspetti un attimo, la prego No, è inutile Sara, non abbiamo più niente da dirci noi due Ricordati soltanto che tutte le cose che sono in quella stanza non ti appartengono più Adesso la saluto Miss Minji, devo proprio andare Sara! 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 Che cosa dici? Miss Morris se ne deve andare via Sì, credo che... Che la signorina sia costretta ad andarsene da questo collegio E trovo che sia una vera cattiveria mandarla via in questo modo Era... era così gentile con me Hai ragione, è una vera cattiveria Ah, allora ha intenzione di mandarla via dal collegio Certo, sono costretta Vede forse un'altra soluzione migliore, avvocato Barro? Non saprei A quanto mi risulta quella ragazzina non ha né amici né parenti Nessuno che si possa prendere la responsabilità di allevarla Ma, avvocato Barro, non vorrà che mi assuma io l'onere di mantenere la ragazzina Mentre lei si preoccupa solo di coprire le sue perdite Eppure se io fossi in lei eviterei di fare una cosa così sventata Come sarebbe così sventata? Miss Minji, pensi un po' alla reputazione del suo collegio Come crede che reagirebbe la gente? Si verrebbe presto a sapere che avete abbandonato una bambina caduta in povertà E per di più senza padre Ah, no, questo no Accetti un consiglio da amico Credo che sia molto meglio tenerla e fare in modo che possa rendersi utile E' una brava bambina e potrà essere molto utile quando sarà più grande, no? Ma... ma che cosa mi sta dicendo? Ah, stavo quasi per dimenticarmi di dirle una cosa molto importante, Miss Minji Lei è un'insopportabile, bisbetica vecchia signora E io la stavo soltanto prendendo in giro La saluto, Miss Minji Addio Lo sai, Jumpy Sta succedendo una cosa terribile alla signorina Sara E noi non possiamo aiutarla E' davvero una situazione disperata Buono, 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 Jumpy Buono Ragazzo, porta subito fuori quel cavallo e il calesse Come? Ma Jumpy è il cavallo della signorina Sara Non discutere, fai quello che ti ho detto Ma perché lo porta via? Jumpy è il cavallo della signorina Sara Non può portarlo via, non può Non seccarmi Il cavallo e la carrozza da oggi diventano di mia proprietà E tu da questo momento sei licenziato Si fermi, si fermi Povero Jumpy Oh no, anche Jumpy Ah, sei qui Gertrude Non pensi che il signor Barro sia stato veramente crudela a sequestrare tutti i beni di Sara Invece no, Amelia Sarebbe stato molto meglio se li avessimo confiscati noi prima di lui Eh? Cosa? Perlomeno avremmo recuperato in parte il denaro che abbiamo speso per quella bambina Ma come? Anche tu avresti preso le cose della signorina Amelia, non ti permetto più di chiamarla signorina Oh, si, si, si Certo, va bene Ascolta, Amelia Ci devono essere dei vestiti che le altre ragazze non portano più Vammi subito a prendere il vestito più logore e le scarpe più rovinate Sì, ma... Niente ma, Amelia È un'impudenza che quella ragazzina indossi ancora quel costoso vestito È inaudito e non posso assolutamente permetterlo Eccoti qua, ti ho preso, canaglia Ma dove credevi di andare? Lasciami andare Voglio andare a parlare con Miss Sara Lasciami Oh, buongiorno, Miss Mincy Ehi, fermati, fermati James Oh, comandi Vieni con me Oh, sì, subito, Miss Mincy Buongiorno, signorina Volevo dirle che Giampi mi è stato rubato dal signor Barro Oh, ma... Ti ringrazio tanto, Peter Sai, ti sono molto grata per le tue gentilezze verso di me e anche verso Giampi Ma cosa dici? E grazie per tutto quello che hai fatto per me durante questo periodo qui al collegio Oh, sono così preoccupato Che cosa le succederà adesso, signorina? Oh, se solo potessi fare qualcosa per aiutarla Sai, Peter I tuoi sentimenti mi commuovono tanto Ma... Presto dovremo separarci Cosa? Sì Io non posso più permettermi di frequentare questo collegio Oh, buongiorno, Miss Mincy Peter, chi ti ha dato il permesso di venire quassù? Lo prego, Miss Mincy La supplico Non mandi via la signorina Sara da questo collegio, per favore Ormai non sei più il cocchiere di Sara e non ti devi impicciare James, sbattilo subito fuori Certamente, Miss Mincy Hai sentito tu? Sei stato appena licenziato Vattene senza fare storia, avanti Vieni con me No, non voglio abbandonare la signorina Ma vieni qui Che cosa farà, signorina? Avanti, vieni fuori Oh, no, no Signorina Avanti, non fare storie Che cosa farà? Vieni fuori con me Non la voglio lasciare Esisti, eh? Signorina Oh, Peter Peter Grazie, Miss Mincy Tornerò, signorina E adesso vieni subito da me nel mio ufficio Ti devo parlare Va bene, come vuole lei, Miss Mincy Sai, Priscil, purtroppo Ho proprio paura che dovremmo andarcene da questo posto Anche quella sedia su cui sei stata seduta per tanto tempo Ormai non ci appartiene più Adesso dobbiamo indossare questo nastro nero in segno di lutto E poi ce ne andremo via Mamma Sara Mamma Sara Non andare via Avanti Avanti Che sfrontata Vorrei che mi spiegassi perché sei venuta qui con la tua bambola Oh no, la prego Non mi porti via anche la mia Priscila Per favore la lasci venire via con me E dove penseresti di andare? Non lo so Davvero non lo so Ma lei, Miss Mincy, mi ha detto che non posso più rimanere in questo collegio Che ragazzina ingenua sei Pensi forse che una bambina come te possa vivere tutta sola in una città come Londra? Pertanto ho deciso di farti rimanere qui in collegio Eh? Ma perché sei così sorpresa? Davvero mi permette di restare qui in collegio? Ma certamente Che cos'altro potrei fare ora che tu sei rimasta sola al mondo? Se non ci fossi io a tenerti qui per pietà, nessun altro farebbe niente per te La ringrazio infinitamente, Miss Mincy C'è un però Se vorrai rimanere con noi dovrai metterti a lavorare per il collegio Sì, certamente, Miss Mincy Farò qualunque cosa lei voglia pur di restare qui, qualunque cosa Bene Ecco, per esempio potrei cominciare a dare delle lezioni di francese alle allievi più piccole Lalla e le altre ragazze mi vogliono bene Che cosa stai dicendo? Cosa ti sei messa in testa? Dovrai lavorare in cucina come Becky da oggi in poi Sarai come Becky d'ora in poi Mi sembrava di aver capito che eri disposta a fare qualunque cosa Allora, avanti, ringraziami Sì, la ringrazio tanto La ringrazio, Miss Mincy Così va bene E adesso Togliti subito quell'abito che ti ho comprato E mettiti questi che sono più adatti A suo tempo sono stati scartati da un'allieva che non poteva più permettersi questa scuola ed è stata cacciata Sono sicura che ti saranno molto graditi come regalo di compleanno Mamma Sara Vi farà piacere sapere che Sara rimarrà ancora qui con noi Dora in poi dovrà lavorare in cucina come cameriera Tenetelo sempre in mente, signorine E adesso forza, vattene pure in camera tua E adesso forza, vattene pure in camera Oh no, signorina Sara Questa qui non è più la sua stanza Sono gli ordini di Miss Mincy Lei capisce, non è vero? La sua nuova stanza è su in soffitta accanto a quella di Becky Come le ho detto, sono gli ordini di Miss Mincy Sì, ho capito Grazie tante, Miss Amelia No, non è vero? No, non è vero? Mamma Sara Mamma Sara Mamma Sara Sulala, ti prego Fai piangere anche Io voglio la mia mamma Sara Mamma Sara Allora, Jessie e Barbara, ditemi, volete ancora essere buone amiche di Sara? Ma cosa dici? Io non ho mai voluto essere sua amica, lo sai benissimo che mi antipatica È vero, è così Noi siamo sempre state tue amiche, a dir la verità non ci è mai piaciuta quella Sara Ah! Noi siamo sempre. Purtroppo a causa mia anche Mariette dovrà lasciarci e cercare così un altro posto di lavoro Mi smince sempre più severa e mi proibirà di parlare con le mie ex compagne di scuola Come sarà d'ora in poi la mia vita lo vedrete nel prossimo episodio Vi aspetto tutti!